Presidente, allora in questi giorni ha provadato anche in consiglio comunale un'interrogazione sul fatto che i rumors davano l'ordigno ritrovato il lunedì mattina anziché il martedì mattina, che la cosa sarebbe di una gravità estrema se si fosse verificato. E guardi questi rumors li abbiamo sentiti anche noi, tant'è che io sono stato contattato da giornalista, io non ero presente nella serie in cui si è discorso di questa cosa, sono stato contattato e francamente sta roba a me è sembrata all'inizio un po' ridicola, poi pensandoci questa cosa insomma non è che mi sia piaciuta molto, perché qui intanto adesso chiederemo l'acquisizione del verbale per capire queste fonti dalle quali derivano, perché comunque io non credo né nei social, non credo né in facebook, non credo né in internet, credo solo che ci sono delle persone che utilizzano determinati strumenti, che hanno un nome, un cognome, una data di nascita, quindi penso che dietro ci siano comunque delle persone. Per quanto riguarda la cosa che mi ha dato molto fastidio è intanto questa sorta di complotto che ci dovrebbe essere tra io, perché comunque sono il rappresentante, i tecnici che noi abbiamo, i tecnici degli arti di cantieri e tutto il resto, quindi mi sembra una roba assurda. Per quanto riguarda i tecnici qui probabilmente ancora non hanno capito che l'ASET è una cosa seria, io non permette a nessuno che venga in qualche modo diciamo così calunniate le persone in maniera del tutto gratuita, senza nessun elemento, le persone che lavorano qui dentro dall'operatore ecologico fino al dirigente. Intanto noi dobbiamo dire una cosa, che l'ASET segue le norme, punto e basta. Fino alla fine cercherò di capire se ci sono degli elementi per i quali in qualche modo si possa capire chi è stato e con che modalità ha portato avanti questo genere di diffamazioni, perché quelle sono estremamente gratuite e senza alcun genere di appoggio e quindi questa cosa non finirà sicuramente con né oggi né domani. Grazie a tutti.